Ciao a tutti da Johnny Rambo e dall'altro Johnny Rambo Questa è la prima puntata della nostra rubrica giochi eccezionalmente inutili Questo è Croc 2, un gioco per computer Se non l'avete capito questa rana, che può sembrare una rana che gira è un croccodrillo, infatti Croc sarebbe la brevizione di Crocodile E non Croc Crac come pensava Johnny Rambo Non lo pensavate tutti naturalmente No, soltanto te Aspetta, c'è il cuore sopra, idiota Eh, ma non ci si può andare, devi farlo a fine livello Wow, complimenti Johnny Rambo, io non sono molto specifico di questo gioco Eh, me ne so forse Però nonostante tutto avevo capito subito che era un croccodrillo e non una rana Io l'ho capito stamattina Questo gioco è del 2005 ed è eccezionale Guardate come si sposta bene la scatola La scatola che naturalmente è tipo il triplo di lui Ma lui la sposta comunque, è Iron Man No, Iron Croc Voi pensate che sia la roccia, ma invece c'è un buco nero Oh mio Dio Come vedete il nostro caro amico Johnny Rambo Non io lui È un vero esperto di questo gioco Guardate che questa fa È un bel cuore Che non posso prendere Perché ho tutti i cuori Non so se l'avete capito ma i cuori sono la vita eh E probabilmente Vabbè ma noi non l'abbiamo mai aperta La parte più del gioco, guardate che divertimento assurdo Il checkpoint Credo sia un checkpoint, vè? I don't know Sì perché quando l'altra volta siamo morti siamo riapparsi qua Ok, è un checkpoint o qualcosa del genere Oppure non serve proprio a niente Oh mio Dio, un altro pirata, gemello di quello di prima Che gioco emozionante Lo fate per la mia Per favore mettete mi piace a questo video Lo so che non piacerà neanche a mia nonna Non piacerà a nessuno però Dai è divertente, i prossimi saranno un po' più divertenti Tanto che provano a mettere un video Naturalmente il mostro muore Non ci screditare Scusate se ho messo torno nella frase perché mi piace molto il film Ma io non ho capito, i mostri muoiono Ma gli occhi cadono, rimangono Guarda, non ha senso Checkpoint o potete di altra cosa sia Guardate, naturalmente quello ne hai visto da Federico come un mostro Anche se era un app gigante Eccezionale questo gioco Non si impalla mai Giusto, Johnny Rambo? Giustissimo Per prendere tutti i diamanti Faremmo qualsiasi cosa Vedete non si è impallato appena adesso E neanche adesso Ora sono io che sto arreppando Che faccio L'ape gigante Che gli cadono lì Lo carichisco del gioco Dovete andare a scatti per non farlo impallare Come dovete andare per non farlo impallare? A scatti! Bravissimi Bravissimi Anche se sono io che ho risposto Ora dovete saltare sopra l'ippopotamo Però ce n'è uno falso e uno vero Dove lo vedi quello falso? No va bene scusate Ho un po' di visione Forse quella è la tua faccia Non so No E il diamante Me lo stavo scordando Dai ce ne mancano dieci Oh mio Dio Ora casco Di nuovo in una grotta Il momento si ripete Checkpoint? Guardate cosa dovete fare Probabilmente nessuno riuscirà Questo gioco non si possono fare tornei online Mi dispiace per voi Noi lo faremo I ultimi due diamanti Preci tutti i diamanti Eccezionale E adesso saltate sulla gelatina E prendete il diamante dei diamanti E magari anche il cuore E anche la coppa speciale E adesso dovete andare qua Oh mio Dio Una ranocchia assassina E la super coppa Ora prendiamo il nostro cuore E avviamoci Guardate Al punto iniziale E ora possiamo arrivare Il nostro amico Sì 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 amico mio Ok il nostro amico La sua anima è saltata dentro di noi E si conclude così Uno dei nuovi episodi Anzi il primo di tutti Della serie Giochi Eccezionalmente Inutili Inutili Arrivederci Grazie per aver seguito Mettevi il mio piace Ciao da Johnny Rambo E dall'altro Johnny Rambo A bere al contrario Grazie a tutti